Questo libro di Donato di Poce, Rinascimento, la danza delle idee, in perfetta sintonia con lo spirito rinascimentale al contempo, un libro storico, didattico, didascalico, critico, enciclopedico e creativo con un entusiasmante, capitolo finale sul rinascimento nell'arte contemporanea. Il rinascimento è stato caratterizzato dicevamo da una vera e propria danza delle idee, arricchita e impreziosita dalla sperimentazione e dalla multidisciplinarietà degli artisti e poeti, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Machiavelli, Poliziano, Alberti, Ficino, Vasari eccetera, che erano poliedrici, creativi, innovatori, e uomini di cultura e dal fatto che le accademie e nelle botteghe degli artisti si confrontavano e contaminavano idee, tecniche, filosofie, religioni. Si approfondirono in questo periodo gli studi delle altre religioni, della filologia, dell'astrologia, archeologia, matematica. Grazie. Grazie.